Scendete, scendete Inviterei le squadre a non raggiungere gli spogliatoi per formarsi in campo per le premiazioni Andre, Andrea, ha detto di andare alle premiazioni e non andare al spogliatoio Inviterei le squadre a fermarsi in campo appena finisce la partita sul campo B A raggiungere l'area di centro campo per proseguire con le premiazioni Ragazzi, ancora una cosa, solo più una, poi vi lascio andare Siete voi che siete andati in campo Bravi a tutti Bravi a tutti ragazzi Eh, basta Basta che bisogna andare alle premiazioni Basta Dobbiamo andare là, eh ragazzi Sì No Basta Usate qui le borracce Sì Bella partita Sì Dovrei Allora Aspettila a posto Puppy Puppy Puppy